altra partita dove potevo tranquillamente rimanere a letto però continuate a difendere anche italiano a dire che non è colpa sua che non gli hanno fatto la squadra giocatori ci sono soprattutto per battere in Bologna o in Riga per esempio e quest'anno io sapete la stima che ho o che avevo comunque per Vincenzo Italiano ce l'ho portato io a Firenze però non ci siamo tante di queste prime partite sono colpa sua io che cazzo vi devo dire se non ce la fa più nemmeno a fargli sfoghi urlare io mi sono svegliato presto per guardarla ma vabbè lasciamo perdere io torno a letto anche a sto giro tanto che cazzo che cazzo mi ci sveglio a fare per vedere queste partite ma io adesso tolgo pure la play tv per guardarla la Fiorentina qua dai cara a me risparmio 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 10 euro al mese risparmio veramente vabbè figlio e ragazzi torno a letto mi faccio una bella dormita che non è possibile porca puttana non è possibile il calcio dovrebbe essere un motivo di di stressarsi meno dalla vita normale mi stressa ancora di più va ma per favore via vergogna vergogna risparmio 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 risparmio